Buongiorno dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Nicola Giannattasio. Traffico al momento regolare su tutta la rete stradale ed autostradale della regione toscana. In A1 prevista neve tra Roncobilaccio e Barberino del Mugello e tra il Bivio per la variante di Valico e Aglio. In A12 segnalata nebbia a banchi tra Livorno e Colle Salvetti. Sulla statale 1 Aurelia, scandio di carreggiata per lavori tra Venturina e Rio Torto in direzione Roma. Sulla statale 3 Bistiberina, riduzione di carreggiata per lavori tra Val Savignone e Canili in direzione Ravenna. Sulla statale 12 della Betone e del Brennero, senso unico alternato per una frana tra Popiglio e la Lima. Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio! Buon viaggio!